Sono 68.052 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 445.321 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta al 15,3%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 140 le vittime in un giorno, i ricoverati con sintomi di riparti ordinari sono 12.333, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1.351. Grazie